salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come creare un altro profilo utente su windows in questo breve tutorial ti spiego come crearlo in pochissimo tempo però prima devi crearti un account microsoft ovviamente in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina nella microsoft eccola qua facciamo su accedi io ovviamente ho fatto l'accesso con un altro account ho messo un nome così a caso e voi dovete solamente fare un account registrarvi e creare pure la password e tutto e poi mi raccomando memorizzatevi il vostro account la vostra password perché dobbiamo usarla per creare un altro profilo utente su windows quindi andiamo su pannello di controllo cambia tipo di account come puoi vedere io qui ho aggiunto un altro account come ho detto un nome a caso così aggiungi un nuovo utente nelle impostazioni del pc aggiungi account ed eccolo qua per questo vi ho detto di creare un account microsoft su quel sito ti registri fai un account metti un email e poi fai avanti mi raccomando memorizzati anche la password e una volta fatto io annulo perché non mi serve chiudo qua adesso due account e per cambiare account ad un altro basta direttamente che clicco sul tasto di windows clicco sul mio profilo e c'è quest'altro profilo utente ovviamente si può fare anche per esempio se accendi pc e c'è il blocco se tu clicchi con il con il mouse in basso a sinistra usciranno due nomi due profili utenti il mio e un altro profilo utente ci clicchi sopra e ti dirà di aggiungere il tuo account microsoft e la password come puoi vedere questa è la mia schermata di blocco se io clicco tasto sinistro sopra questo è il mio profilo utente e in basso come puoi vedere ci sono due profili adesso clicco su questo profilo secondo che ho creato mi dirà di mettere un pin adesso metto il pin ed eccolo qua nuovo desktop nuove icone sul profilo qua sopra come avete visto prima era pieno la barra e qui ce n'è una nuova e per tornare indietro io faccio direttamente tasto windows il mio metto il mio pin ed eccoci qua ritornati di nuovo sul mio desktop quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi in questo nuovo tutorial ovviamente se tu vai a mettere la schermata di blocco e tu vai ad accedere al tuo nuovo profilo utente non ti dirà di mettere il pin come ho messo io ti dirà direttamente di aggiungere l'account microsoft più una password e poi dopo windows farà il resto ti dirà se vuoi aggiungere un pin se vuoi fare questo se vuoi fare quello e poi una volta personalizzato il tutto ti porterà sulla tua nuova schermata di windows quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanellina di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao